Si susseguono gli episodi di incendi sull'intero territorio cittadino con annessi interventi dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia locale. L'ultimo si è verificato questa mattina in via Luigi Ferrara proprio al ridosso del campo desiderio di pregiato. Erba secca e canne invase dalle fiamme hanno generato una vera e propria cortina di fumo che ha azzerato la visibilità sul tratto. Sul posto intervenuti immediatamente i vigili del fuoco con un autobotte e un mezzo tecnico d'appoggio che in breve tempo hanno estinto il rogo. Tuttavia il problema è tipico di questo periodo in cui è facile trovare sterpaie e sbadati. Cittadini che lanciano mozzicone di sigarette mai spenti nei giorni scorsi si sono susseguiti altri episodi simili. Appena ieri e anche domenica la pattuglia del pronto intervento della polizia ambientale è intervenuta in località Novella, sempre a Pregiato, a Sant'Antuono di Passiano e poi a Caselle Superiori. In tutti i casi si è trattato di roghi intenzionali per i quali i responsabili sono stati appositamente sanzionati.